Si torna a parlare della fragilità del nostro territorio. Vediamo quanto sta accadendo nei campi Flegrei. Il commissario straordinario alla ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini, ha affrontato la questione nel corso della trasmissione Il Fatto, condotta dal direttore Carmine Perantuono, sottolineando l'importanza della prevenzione in un paese come il nostro. E parlando anche dell'esclusione delle aree sismiche nell'ultima seconda stesura del provvedimento del super bonus per cui si sono mobilitati un po' tutti. Si è soffermato sull'importante strumento del PNRR ma bisogna fare di più non solo nella ricostruzione, soprattutto nella prevenzione. Non c'è alcun dubbio che il PNRR ha costituito e costituisce un'occasione storica per il nostro paese. Peraltro la quantità della spesa effettivamente erogata, degli interventi effettivamente attuati è ancora nella prima fase. Gli effetti dovranno manifestarsi nel corso dei prossimi anni. Quindi non si può dire che sia stata un'occasione mancata. Io mi auguro fortemente che non lo sia un'occasione mancata perché è un'occasione irripetibile per il nostro paese. Su questi temi probabilmente di cui stiamo discutendo bisogna fare di più. Non tanto sulle ricostruzioni che sono dotate finanziariamente, sul bilancio dello Stato, con stanziamenti pluriennali e che costituiscono un obiettivo diverso da quelli che hanno suggerito all'Unione Europea di varare questo grande programma, non sulle ricostruzioni ma sulla prevenzione, il PNRR poteva fare di più e mi auguro che con le successive e le prossime rimodulazioni possa fare di più. Mettere in sicurezza il territorio costituisce uno degli obiettivi della transizione ecologica del nostro paese. Sulla esclusione dell'aresismi che adesso in questa seconda e ultima stesura del provvedimento sul super bonus si sono mobilitati amministratori locali, professionisti, categorie. Lo stesso commissario Castelli ha mostrato grande preoccupazione. È una preoccupazione che condivida? Assolutamente sì, l'ho detto nell'audizione sul decreto che ha disciplinato questa materia. Quel super bonus integrativo del contributo di ricostruzione a che cosa serviva? Fui a suggerirlo al governo all'epoca, al governo prima con De Due, poi Draghi, e poi è stato largamente attuato e ha costituito un volano per i processi ricostruttivi nel nostro paese. Serviva ad integrare il contributo pubblico per le ricostruzioni che non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo del 100% e serviva e serve per rendere più sicuri gli edifici e più efficienti da un punto di vista energetico gli edifici. Quindi è un obiettivo che si condivide. Non lo vogliamo chiamare 110, non lo vogliamo chiamare super bonus, vogliamo cambiare le regole, facciamolo, ma quell'intervento nelle aree colpite dai terremoti bisogna garantirlo.